Poteva avere conseguenze decisamente peggiori l'incidente di questa mattina verso le 8 e mezza all'altezza della rotonda di Quinto, allo svincolo con la SP6. Un motociclista per circostanze ancora al vaglio della polizia municipale si è scontrato contro il muso di un tir con targa olandese. L'auto articolato condotto da un uomo di mezza età aveva infatti imboccato la strada per entrare in paese a Quinto appena dopo essere uscito dalla rotonda quando è andato ad impattare con la moto. Alla guida della stessa un uomo residente a Marzana che stava procedendo su via Valpantena ed è stato scaraventato per terra ferendosi ad una gamba e procurandosi una frattura. Niente di grave per fortuna. Ad avere la peggio è stata infatti la Kawasaki che ha subito danni in particolare sulla parte anteriore. Lunghe le code che si sono create in particolare per chi proveniva dal centro in direzione Quinto. Dopo gli accertamenti della polizia municipale il traffico ha cominciato a defluire nel giro di un'ora.